Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce, oggi vi porto un TVT, ritorno nel Blackforce, ricordiamoselo prepotentemente Blackforce online e oggi vi porto un TVT giocato da me qualche istante fa dove uso la Mac Ho fatto 10 partite, ne ho vinte 9 e ne ho persa una E ora vi faccio un po' vedere come esistisco la Mac, devo dire che contro Terra mi sto riuscendo parecchio bene Anche contro Protoss non è andata male, l'unica partite che ho perso è stata contro uno Zerg Dato che cerco di fare una Mac propositiva al lato offensivo, in particolare con Elion e con Elion Banshee Per tenere l'avversario sotto pressione, questa cosa mi riesce discretamente bene contro Terra e contro Protoss, contro Zerg Faccio veramente tanta fatica, hanno sempre modo di rompere i primi conteni che gli faccio all'inizio della partita Vediamo un po' come vado a impostare il gioco Allora, parto normalmente con una Reaper FE, quindi caserma Depoio sto caserma, allo stesso tempo della caserma va giù la raffineria e parto con il Reaper Ovviamente a fine caserma Orbital Command, ok Ora, a questo punto Fermiamo un attimo, a questo punto quando avete il minerale fate espansione e poi deposito Potete anche optare per fare, allora la cosa giusta è fare espansione, SCV, deposito, altro Reaper Questi quattro elementi li potete alternare come volete Espansione e SCV sono molto importanti, però è anche molto importante il deposito Almeno quando non avete ancora l'abitudine a utilizzare la build per non fare entrare le SCV E non fargli vedere quello che state facendo dentro Soprattutto per non fargli vedere questa ex Quindi il mio avversario non sa se io gli farò uno l'in di Reaper o che cosa Perché comunque non riuscirete a nascondere il Reaper Dato che questo SCV lo seccherete con il Reaper che esce A questo punto faccio subito un altro Reaper Questa cosa è molto importante contro Terran Contro Protoss, ne sto un po' rivalutando le cose Anche contro Zerg è buona Perché? Perché con due Reaper riuscite veramente a gioccarvela contro i Marine dell'avversario Se il vostro avversario sta andando per una War Axe Fe È veramente in crisi Se non è andato di Reaper o è andato di Marine Perché arriverete addirittura a un punto dove avete due Reaper contro uno o due Marine E quindi il vostro avversario non sarà messo bene La cosa migliore sarebbe iniziare a pushare il vostro avversario appena avete un Reaper fuori Quindi il Relay Point del secondo Reaper lo metto su questo Reaper Inizio a pushare con questo Reaper Tolgo vita ai Marine dell'avversario Non perdo mai il Reaper In più avete anche la carica KD8 Che fa veramente un male boia Quindi avete un sacco di elementi per fare male Qui lui guardate qui preoccupatissimo il mio avversario È andato a fare Marine subito per avere una difesa almeno iniziale contro Reaper E poi il Tank per stare super safe Addirittura il Deposito E Starport quindi una 1-1-1-1 È indietrissimo di economia E a questo punto ho questa base che sta andando Che è stata completata La sto trasformando in un Orbital Command Che può fare veramente male Qui ho sbagliato sarei dovuto tornare indietro con i Reaper Per salvarmi tutti e due Provate a manzarvi un po' di Marine Se la situazione è così Potete provare ad andare qua dietro Quindi a bypassare la sua linea difensiva Però non è che potete fare tantissimo Soprattutto perché qui sta uscendo un Tank Anche se riuscite a far sparare il suo Tank Sui suoi esercizi Non è una brutta mossa A questo punto cosa fate voi? Appena avete 100 di Vespene Fate caserma Buttate su un'altra raffineria Appena avete 50 Reattore sulla fabbrica Sulla Sulla caserma Fate fabbrica Raffineria 50 di Vespene Reattore sulla caserma E per uno Switch Per andare a fare Alien Per la finita la fabbrica Fate Starport Mettete giù questa base Io la metto In questa zona Così è più facile Mettere la terza qua Dato che comunque sono all'attacco So che il mio avversario Non mi sta per venire ad attaccare Ho la possibilità di metterla giù qui La cosa brutta contro Terran E che se va di 1-1-1-1 Come in questo caso Sta facendo probabilmente Medivac E arriverà un drop Come poi infatti arriverà E quindi dovrete proteggervi Officina bellica Per me ci sta sempre bene A questo punto Ora io voglio andare a fare Elyon Qui ho fatto il modulo tecnologico Per andare a fare lo Switch Per fare Benshi Quindi rimarrò di Elyon E Benshi Per un bel po' Non avendo Contromisure A layer Praticamente Quindi il torrette Per proteggervi Gli SCV Sono più che fondamentali Se la situazione È veramente critica Potete fare uno scambio Fra i due E andare a fare Liberatori E Cyclone Per stare proprio Super safe Contro qualsiasi cosa Aerea Altrimenti potete andare Proprio di Elyon A Spinser Per esempio Se esce una Benshi Avete bisogno di fare Questa giocata Ok quindi Non andate di Elyon Benshi Ma Appena vedete Che arriva la Benshi Cambiate Una buona scan Non sarebbe una brutta idea Perché qui avevo La paura Che uscisse qualcosa Ma poi vedo la fabbrica Che sta producendo E quindi capisco Che arriva il tank Capisco che arriva il tank Capisco che arriva il drop Faccio una torretta Qui Una torretta qui Ma all'inizio della partita I drop sono veramente Molto molto pericolosi Provo a mettere pressione Quindi Le Elyon Mettete il rally point Sul reaper Ok E Fate costantemente Pressione Nel vostro avversario La Benshi Che mettete in produzione Mettete il rally point In questa zona Per andare ad attaccare La prima base O la terza base Scusate come sono fatte le mappe E Continuate a fare pressione Su due punti Sia con Benshi Che con Elyon E Vabbè c'è anche il reaper Se riuscite a salvarlo Uno o due reaper E Cercano di non perdere mai Nelle Benshi E negli Elyon Per mantenere costante la pressione Perché Quello che voi volete fare È Mettere pressione Al vostro avversario Per essere protetti Contro un eventuale push di bio Ok Che può essere molto pericoloso Qui c'è da dire Che l'avversario è un po' indietro Di macro Perché appunto Ha voluto fare Questa giocata aggressiva E soltanto E soltanto Può andare a mettere giù La base Se noi riusciamo a mettere giù Terza base Lui non ha giù terza A questo punto Possiamo far esplodere La nostra macro Buttare giù Tre fabbriche Un altro starport Per un totale di Quattro o cinque fabbriche Due o tre starport E a quel punto Possiamo veramente far male Qui lui riesce a fare Questo buon drop Si salva la medieva Che salva un sacco di cose Riesce a tirarmi giù Il La torretta Lanza missile A questo punto cosa faccio Ho fuori una benshi La benshi deve andare Dritta sul tank E ovviamente Non deve farsi uccidere Da questi marine Ok Non riusciranno mai Queste unità Tirare giù Il zettor di comando Però Meglio stare attenti Avete degli elion Gli elion sono A mio parere Molto forti contro tank Perché riescono Ad andare direttamente Sotto ai tank E andare a fare Un ottimo lavoro Quindi cercate sempre Di stare più sotto Ai tank possibili Al massimo Vi prenderete un colpo Ma se avete le elion Spaiate Non è un grandissimo problema E se sono anche unite Riescono a resistere Al colpo del tank O almeno ne perdete Uno o due Dunque Tirare giù Due tank Per due o tre elion E' uno scambio Che io farei tutte le volte Continua a mettere giù Torrette Ma un drop E' sempre Molto Incisivo Per esempio Qui c'era Questo spazio Che lo può utilizzare Per droppare O qui se è bravo Può utilizzare lo spazio Fra le due torrette Lanza e missili Per quanto Poco E se sia Per comunque Le torrette lanza missili Hanno una buona Zittata Che mi sembra Di 7 Ok Qui ho perso Qualcosina Però nulla di importante Continuate a fare Costantemente SCV Durante la partita Vedrete che non sarete mai In debito Di questi Anche per su lott Ricordiamo Che si può giocare Anche con me SCV Rispetto all'edizione Di starcraft Precedenti E quindi Riusciamo comunque Sempre a gestire Bene la partita Le benshi Se siete all'attacco Fatele stazionare In questi punti Quindi mettete pressione Qui Lui va a farsi Una due torrette A questo punto Potete far poco O cambiate punto Di pressione Ma se lui continua A farsi torrette Non avete la possibilità Quindi magari Patugliate questa zona E questa zona Per un'eventuale Quarta base E un'eventuale drop E 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 Ok Per vedere Quando va giù Terza E per comunque Provare A Mettere Per esso L'avversario Saper di avere L'unità fuori Da casa Non è mai una cosa Simpatica E previene anche Il drop Perché ovviamente Il vostro avversario Sarà intimorito Dal dropparvi In fazza Utilizzate la caserma Capite in base Come Meretrizi Per fare Reattori Comunque varia donda Poi Smistare sulle varie strutture E Per esempio Contro protos Poi I late game Serviranno ovviamente I ghost E anche contro Zerg Direi che I ghost Non sono male Terza base La metto La metto in creazione Quando parto Con la run Di benshee Ed elion Quando ci sono fuori Due benshee Un attimo momento Quello per Andare a fare Seconda base Terza base Comunque Quando sono in pressure Sul mio avversario E so che lui Non mi può Venire in base A questo punto Sarebbe dovuto Tornare ancora Più indietro Questi due tank Possono Possono comunque Farmare Le elion Sono unità corazzate Le elion Non sono Efficaci contro I tank Quando sono in ansige Qui però C'ho comunque Un bel po' di roba Le elion Io vi consiglio Di micrarle Per posizionare In linea retta Ok Quindi Lui c'ha tutti i marini In questa fila Io non metto Le elion qua Ma cerco di andare Con le elion Praticamente Attaccato Le sue unità Con due A formare Due rette Due linee Che ci sovrappongono Se prolungate Il massimo Del parallelismo A questo punto Lui cosa fa Parte con questo droppino Ha comunque Ucciso un po' Delle mie unità Io A questo punto Vado a fare Tank Con due fabbriche E elion con una Qui continua a fare Banshee Ovviamente Qui si può fare Anche liberatore A seconda di Che cosa vi richiede La situazione Andare a fare Reattore Eccetera Comunque poi faremo Uno starport Con il quale si farà Il reattore Quindi non preoccupatevi Di questo A questo punto Le banshee Devono andare A zecchinare Il tank E le elion Vanno sui marine Comunque Siete Counterate bene Il vostro Il vostro avversario Quando avete I tank Inizia ad essere Un buon punto Della partita Ho giù tre basi Fate anche le armerie Per andare a fare Gli upgrade Fatele simultanea Tanto gli upgrade Costano veramente poco In più Dovete partire presto A fare gli upgrade Perché avete anche Quelli dell'attacco Per le Navi aeree Da fare Il che vi porterà Via comunque Del tempo Il mio avversario Non ha la terza Io ho la terza E lui ha comunque Giù un sacco di strutture 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caserme Uno starport E una fabbrica Volevo vedere A che punto era Con gli upgrade Sta ricercando Il più due Per la difesa E con l'1 Uno No Sta ricercando Il più uno Per la difesa Quindi è con l'1 Uno in questo momento E Io sono ancora Con lo 0, 0 E l'1 Uno sta finendo Io voglio andare Ad avere Cinque fabbriche Come ho detto E Due starport E' un ottimo numero Questo di Strutture Da avere Poi il late game Può essere anche Modificato Ma comunque Quando avete giù Tre strutture Io vi consiglio Quando avete giù Tre basi Più o meno Dovreste essere Abbastanza safe Con queste misure Magari potete fare Una fabbrica in più Da metterci Il reattore Se proprio volete Qui Quando siete in difesa O in attacco Comunque Non tenete mai Tanki ansizzati I tank devono sempre stare In modalità Sige In questo Stile di giocata E Guardate qui Soprattutto sui Vadimarine Se voi avete I tank ansizzati Lui Può stimpaccare E farvi Veramente Veramente Tanto male Se Non avete Se invece Avete i tank In seeds Riducete di molto Le sue possibilità Offensive E in più Sparpagliateli Perché altrimenti I drop Per esempio Di marauder Possono fare Veramente Veramente Malissimo Utilizzatele Benci Per avere Quel vantaggio Contro chi va Di marine Tank Medivac Come Il mio avversario Dato che non ha Modo Da A parte Liberatore Ovviamente Per sparare Dall'alto Verso il basso Cosa che le venshi Invece sono Veramente Molto utili Mette giù Terza base In questo punto Non l'ho capito Granché Questa Scelta Però Vabbè Qui hai anche La rampa Per difenderti Va bene 1-1 Date subito 2-2 Eccetera Vi dicevo Quando avete 300 di Vespene Potete buttare Giù una struttura In più Ovviamente Avete Per esempio 5 fabbriche O 6 fabbriche 2 correattore Le altre col modulo Tecnologico 2-3 starport 2 correattore 1-2 con il modo Tecnologico 1 correattore O viceversa Comunque più o meno Questi sono Il numero di basi Da avere E il numero di strutture Da avere Scusate per gli svarioni Ma sono le 3 di notte Mi sembra Quindi Capite bene Che sono abbastanza Devastato Ogni 300 di gas Che avete Ovviamente Avendo upgrade In produzione Tutte le varie unità In produzione Quindi tutte le strutture Attive Potete scegliere Di buttare giù Uno starport O una fabbrica In più Però Non riuscite a buttare giù E addirittura Si potrebbe anche Optare per 8 gas Vespene Non è male Come cosa Il Vespene Qui vi servirà molto Anche perché In late game Avete una transizione Ad air Se volete Con battlecruiser Raven E viking Che necessita Veramente Di una quantità Di Vespene Molto molto Esuberante Andate a fare Panetti di Fortress Perché vi servono Tantissimo Per difendervi Dai drop Veramente Veramente Tanto E Oppure Per esempio Contro Zerg Vi devono Proteggiare Darle muta A quel punto Potete anche Optare per mettere Dei Thor Io li metto Quasi sempre Dei Thor Nella mia armi Composition Da mettere Soprattutto davanti Per darmi Quel tempismo Per attaccare L'avversario Stendere i tank Intanto i suoi Per esempio In un TVT Sparano sui Thor A quel punto Posso andarli A bersagliare Con i miei E' una tattica Abbastanza vincente Nel TVT Controlla l'aereo Importantissimo Quindi più che liberatori Vi consiglio di fare Proprio viking Che sono più efficaci Cioè sono efficaci Contro i liberatori Mentre i liberatori Non sono efficaci Contro viking E i liberatori Non vi servono Tantissimo Per il fatto Che avete le benshi Per sparare Contro i tank Avversari E toglierli dal seggio Distruggerli Completamente Il mio avversario Qui è fuori posizione Io posso Entrarli Cattivo E andare a stendere I miei tank Ecco Non stendete mai I tank così Almeno che Non siete veramente In una condizione Di Attacco imprevisto Del vostro avversario Cercate sempre Di prendere posizione Con i tank A mano a mano Se li stendete così O lo fate Perché il vostro avversario Ha già messo bene I suoi tank Ha un vantaggio Quindi Cercate di massimizzare I vostri colpi Oppure Generalmente Perché Il vostro avversario Vi è attaccato Avevate i tank Ansizzati Errore E quindi li stendete subito Per cercare di massimizzare Il DPS Altrimenti Cercate di sparpagliare Tutti i tank Io un drop Con 4 medie VAC di marauder Mi asfalto i tank Come se non ci fossero domani I tank che si sparano Fra di loro Sempre cose brutte Da vedere Oppure siete sotto base Ok Potete stenderli tutti Per andare a focussare La base E distruggerla Prima che gli SCV Dell'alleato Possano andare a Ripararla Ci può stare Come cosa Altrimenti Muovete i tank Mano a mano Qui Vado a vedere Se ha la base Qua Ce l'ha La distruggo Potete mandare Anche un Elion Da una parte Della mappa E un Elion Dall'altra Per guardare Come è messo L'avversario a base L'idea è quella Di tenerlo Sempre in container Ok Avete i tank Sono fantastici Per questo Proteggete i tank O i viking Elion Sono una buona Prima linea Da trasformare Anche in Elbat Per esempio Contro Zerg O contro Protos Contro Terran Mi piace abbastanza Tenerli in modalità In modalità Macchinina Invece che In Elion Invece che In Elbat Però Ci può stare Anche trasformarli In Elbat Specialmente Contro Marauder Ecco Contro Marine L'attacco in linea retta Può far male Più che il cono Perché comunque I Marine Si spreadano Su una linea Io posso andarli A prendere Orizzontalmente Sempre con il discorso Delle linee parallele Stendete i tank In questo modo Se siete contro Zerg È valido Anche stenderli In linea retta Sono due Presi di posizioni Diverse Qui io voglio Circondare il mio avversario Per fargli un container E andare a minimizzare Il danno che I tank Possono subire Dallo splash Quindi andare a mettere Tutti i tank Attaccati Massimizza il danno splash Del mio avversario Ed è una cosa Che io non voglio fare Anche se devo mettere Un tank Non lo metto qui O lo metto qui O lo metto qui Ok Questo mi aiuta Veramente tanto A Mietto veramente tanto A minimizzare Il danno splash Porto amati di tank Quando vedo che Vengono distrutti Ok Finisco di sizzare I miei tank Scan E li faccio sparare I miei tank Fanno 41 danni 60 contro corazzate Velocità arma 2 Quindi sparano Abbastanza veloci Porto su tutte le prime linee Se ho bisogno Stendo i liberatori Altrimenti Li lascio su E Insieme ai viking Per pulire Tutto quello che c'è per area Poi faccio scendere Anche i viking E le benshi Non sottovalutatele Perché queste sono Per esempio 3 6 benshi Che fanno 13 danni 2 attacchi Quindi per un totale Di 26 danni 26 per 26 per 6 E un dps Veramente Veramente Molto importante E guardate qui Sono con il 2 Per la corazza Sia per le terrestri Che per le aeree E con il 3 per l'attacco E l'1 per l'attacco Quindi neanche degli upgrade Massimizzati Contro di lui Che aveva Il 3-3 No Aspetta No 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 Oddio Non volevo Non può avere il 3-3 Su No Al 2 per 2 attacco 2 difesa Scusate Bastava fare Bastava fare così Anch'io mi perdo Proprio in un bicchier d'acqua Esatto 2 attacco 2 difesa E 1-1 Per Per la mech Bene ragazzi Ho portato un po' di mech Per farvi vedere Come work Vi porterò altri replay Dato che comunque In questo periodo Sto Giocando abbastanza di mech È un periodo che è partito Praticamente da stasera Con queste 10 partite Mi sto trovando abbastanza bene E io faccio sempre Questi Scambi Bio mech Bio mech Insieme con i marine tank Perché Secondo me Avere una buona varietà È un'ottima cosa Bene ragazzi Io vi ricordo di mettere mi piace Commentare Iscrivervi al canale Se mi piacciono i miei video Noi ci vediamo con il prossimo cast Ciao a tutti ragazzi